Nel post partita di Propatia Ciliverghe 2-0 in compagnia del mistero, una vittoria importantissima, voluta, cercata, assolutamente meritata. Sì, direi che abbiamo fatto la partita che volevamo. Nel primo tempo abbiamo messo anche molta qualità, abbiamo dominato, siamo riusciti a sbloccarla. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto quei dieci minuti di sofferenza perché comunque Ciliverghe è un'ottima squadra e poi abbiamo avuto la maturità di chiuderla su 2-0 e portarla fino alla fine. Non abbiamo preso gol, che è una cosa importante, quindi abbiamo fatto un'ottima partita e faccio complimenti ai miei ragazzi. Finalmente dopo diverse settimane in difficoltà, oggi ha avuto l'imbarazzo della scelta e si è dimostrata la qualità dell'ampiezza della Rosa. Nonostante Pettarini e Gazzofori, una gran partita da parte di Mozzanica, Colombo, Pedone, insomma una grande propatria. Ma penso che abbiamo confermato quello che è la nostra filosofia e quella che è la nostra identità di questa squadra che alla fine a lunga deve fare la differenza. Torno a ripetere che io di questi ragazzi, mi fido, non abbiamo titolari in questo senso qua. Sono tutti ragazzi che possono dare una grande mano per fare in modo che la propatria pesa in quelli 90 minuti. Oggi Mozzanica ha fatto un'ottima partita, ma io ero convinto che lo facesse perché è un ragazzo che si è sempre andato bene e è stato sempre importante per noi, come tutti gli altri ragazzi. Quindi questa è la nostra forza, deve ancora diventarla di più, dobbiamo sfruttarla con ancora più consapevolezza e penso che comunque chiudere la stagione in casa con la vittoria è un bel regalo per i nostri tifosi. Le Noci finalmente è tornato al gol, stava giocando una grande partita. Da ex calciatore sa quanto può essere importante per lui aver ritrovato la rete. Sì, noi da dentro eravamo assolutamente sereni perché volevamo Beppe allenarsi, vedevamo che era in crescita, era giusto che oggi giocasse lui perché alla fine, come ho detto, quando ha sbagliato questo gol, saranno tante partite che ce la farà vincere e oggi è successo. E quindi diciamo che è abbastanza naturale che succede. Ora finalmente si può parlare di Darfo. Sì, adesso sì. Ne parliamo da martedì, sicuramente sarà una bella sfida, interessante perché è una squadra che merita rispetto per tutto quello che ha fatto e noi saremo curiosi ad affrontarli. In bocca al lupo.